Per una dose di eroina, sì e non mezzo grammo, non si va in carcere, così stabilisce il quinto comma dell'articolo 73 del testo unico stupefacenti che relega la detenzione di piccole quantità a un fatto di lieve entità. Ma lo sconto prodotto dal riconoscimento della lieve entità è superato se l'indagato viene considerato soggetto socialmente pericoloso. In questo caso l'arresto deve essere convalidato. È la convinzione della Procura di Prato che ha portato fin davanti ai giudici della Cassazione la decisione del Tribunale di non giudicare legittimo l'arresto di uno spacciatore nigeriano di 26 anni fatto dai carabinieri. L'uomo, arrestato dopo essere stato sorpreso a vendere eroina nonostante fosse sottoposto all'obbligo di firma per un precedente episodio di spaccio, era stato rilasciato dal giudice che non aveva convalidato l'arresto nonostante una serie di elementi a sostegno della pericolosità sociale. Elementi che il procuratore Giuseppe Nicolosi ha riportato alla Cassazione. Nel curriculum del 26enne due arresti e una denuncia per spaccio di droga, tre denunce per reati diversi, presenza sul territorio italiano senza permesso di soggiorno, mancanza di un lavoro e di un domicilio stabili. Stesso elenco portato all'attenzione del giudice della convalida che però ha affidato la sua decisione al certificato penale che riportava in quel momento solo una condanna. Del resto è andato di fatto la lentezza della giustizia e si sa che tra una contestazione penale e una eventuale sentenza di condanna sul certificato penale di tempo ne passa. Ecco che la Cassazione ha annullato la non convalida dell'arresto ma forse il nigeriano non lo verrà mai a sapere.